Portare la toga a Trapani e fare il lavoro di Ciaccio Montalto è una responsabilità, un onore e anche un privilegio. Sapere che portiamo l'eredità di persone che hanno dedicato davvero il loro impegno al proprio lavoro con un messaggio che può sembrare rivoluzionario ma che dovrebbe essere normale. Cioè quello di dedicarsi al proprio lavoro e non arretrare di fronte alle responsabilità e non guardare in faccia nessuno, non piegarsi alle convenienze, non piegarsi agli accordi, ai compromessi. Per questo lui ha pagato. Ora fortunatamente oggi chi fa il magistrato vive dei momenti sicuramente più tranquilli per la propria incolumità personale rispetto a quegli anni. Però questo non vuol dire sottovalutare la portata di certi fenomeni, il fatto che ancora ci siano delle zone grigie di contiguità tra i grandi poteri economici e la criminalità organizzata perché non considerare questo significherebbe ancora una volta mettere la testa sotto la sabbia e creare quel terreno che poi ha portato a un fatto così efferato come l'uccisione di un collega. Oggi, ancora a distanza di tutti questi anni, si celebrano gli amici di mafia, non solo dei grandi della magistratura ma anche delle persone comuni. Qual è il messaggio che si può portare nel 2020 a queste scolaresche? Il messaggio è quello di cominciare subito a prendere consapevolezza di chi si è e da che parte si vuole stare. Non esiste un'età in cui uno può nascondersi di fronte alle responsabilità che sono calibrate rispetto al periodo della vita in cui uno sta vivendo. Però ciò non significa che chiunque, anche da studente, non debba prendere una decisione importante rispetto a un compagno che è rimasto isolato, che viene ridicolizzato, bullizzato secondo questi neologismi. La mafia non è solo un fatto criminale in senso stretto, che come tale viene contrastato con le azioni delle forze dell'ordine e della magistratura. Già tempo e tempo fa si è detto che la mafia è per questo, da ciò deriva la sua pericolosità, è una mentalità, un modo di pensare, è un atteggiamento rispetto agli altri, rispetto alla cosa pubblica. E questo va estirpato con lo studio, la conoscenza e il ragionamento critico rispetto alle cose. Grazie.